Allora, amici del Draghistan, dunque come avevo già detto l'altra volta, per quanto riguarda questi pseudo cambiamenti fatti per le museruole, adesso vi faccio vedere come questi qua praticamente fingono di cambiare le cose per non cambiare niente. Allora, la museruola all'aperto era obbligatoria salvo dove non ci fossero assembramenti, ora la museruola all'aperto non sarà più obbligatoria salvo dove non ci sono assembramenti. Quindi se vi andate a leggere i decreti sui dispositivi di protezione individuale dicono esattamente questo e se vi ricordate lo stesso giochino lo fecero a giugno dell'anno scorso. Dissero guardate, adesso non è più obbligatoria, siete tutti liberi a meno che non vi troviate dove ci sono, a meno che non possiate garantire la distanza di sicurezza. Cioè questa seconda cosa qui. Adesso questa cosa l'hanno rifatta perché inizialmente il decreto di Giuseppi, quindi due anni fa, diceva sempre questo, che era obbligatoria salvo dove non ci fossero assembramenti. Qui se stavi solo tu sulla panchina, per esempio, o stavi solo tu in montagna a raccogliere i funghi, chiaramente non ci voleva. Ok? Anche se la gente ha preso multe per questa cosa, purtroppo perché non si vanno a leggere i decreti. Adesso cosa è successo? Che la stessa cosa che fecero anche l'anno scorso, due anni fa e tutto quanto, dissero la stessa cosa a giugno. Dissero guardate, non è più obbligatoria, però a meno che non vi troviate in un posto dove, diciamo, dove praticamente non riuscite a mantenere la distanza. Ok? Quindi la stessa cosa. Quindi loro vi sparano le balle col megafono alla televisione e vi dicono, guardate, non è più obbligatoria? A meno che non ci sia, quindi dovete portarla con voi obbligatoriamente, a meno che non ci siano gli assembramenti, a meno che non riuscite a garantire la distanza. Quindi è sempre la stessa cosa, vedete? Non cambia niente. Quindi questi vi sparano balle, vi fanno credere che cambi qualcosa, ma invece i decreti dicono sempre la stessa cosa. Andatevi a leggere i decreti in gazzetta ufficiale e vi rendete conto. Ok? Ok. Bye!